ciak mi chiamo mi chiamo oggi con la sorpresa di tutti su grandissima richiesta NELSON ciao io mi chiamo nelson e faccio un video su youtube e il 90% degli iscritti di Luis è il mio iscritto eh non è vero Luis è il mio iscritto comunque non c'è competizione qua a parte una quella di oggi che sarà e io non lo so e sono abbastanza preoccupato di ciò perché io sono venuto qua senza sapere assolutamente che cosa stiamo per fare mi ha soltanto detto da ieri dilata la pancia bevi tanta acqua quindi l'abitante della valle luissiana stiamo per mangiarci a testa un chilo già partiamo malissimo così di carne da hamburger dentro degli hamburger anche io di hamburger esatto non mi veniva la parola ho paura no ma voi c***o vi fate del male mamma ok wow mi avete detto in tanti a stai dandovi al culo è verissimo io due mesi fa non credevo di arrivare cioè io due mesi se tu mi avessi detto che io due sai cosa ho quasi paura di parlare in un tuo video perché uno parla ma parla quando vuoi tranquillo comunque io se tu mi avessi io non ci credevo se mi avessi detto io ho sempre sognato di arrivare a questo punto nella mia vita capito? di mangiare mangiare un chilo di hamburger io invito tutti voi a puntare ad arrivare a questi momenti perché sono momenti importantissimi detto ciò abbiamo tre panini a testa all'interno di ognuno di questi panini c'è panini e dei panini ketchup però alla fine sono dei semplicissimi hamburger sì ma gira questo cioè questo è inquietante è una gara? no sì al countdown tre sono freddi sono freddi comincia ad ingoiare il suo pasto in un unico grande bocconio è buono ma se è tutto svaldato il pane sotto manca te non è che è bagnato? è un pocconio l'acqua perché non siamo teniti in mano è buono proprio è buono proprio è buono proprio è buono proprio ah ah piccà ti ho fatto dato piccà un tacco ah 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 ma te lo faccio sbagliato ah 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 che buona è l'acqua ah 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 oh oh non sei fate lui mi ha detto prima di iniziare il video bene con il regolo del mio canale su only regolo numero uno niente drop e il regolo numero due niente scorrette basta Ci sei? Ci sei? Ci sei? Salve! Mi accingo a mangiare l'ultimo hamburger Aspetta che è troppo alto È più grande adesso Da cenere torniamo cenere Ma hai detto? Chi la fa l'aspetti Esatto Questo qua era macinato di carne e sta tornando macinato di carne Io consiglio a tutti voi di mangiarvi Non dico un chilo Ma, non so, 900 grammi di macinato al giorno Guardate che fisico Bello È arte quasi Ma tu come sei messo? Bene Mi sento come se avessi proprio del cibo qua Ok Perché forse hai del cibo lì Sì Quello può essere un fattore che determina Più passo il tempo, più la mia masticazione sta diventando inefficace Io credo in te Ma neanche mio padre crede più in me Che senso è la vita E fatti cos'è anche per la Marcella? Della Marcella Che ci sta guardando Ciao Marcella Che brutto nome Io avevo la maestra Marcella Eh sì? Vedete va sempre rossa Quando la picchiavi Provo a mangiarlo per l'osmosi È più ricoloso mangiare tanto eh Si sta male Non fa bene? No È finito Sto facendo un mini hamburger Non pensavo sinceramente di perdere così Io mi ritrovo magari a mangiare mezzo chilo di pasta Per i fatti miei a casa Però Adesso sono un po' preso Stai dandovi al culo È verissimo Più il pane Che buona è la palla È finito Ti manca un po' di oro Ah quello è caduto Bravo Luis Ce l'ho fatta E cosa si vince?